Come annunciato anteriormente, cari amici ed amici, ho cancellato tre radioprogrammi perché avevo soltanto 26 secondi per poter continuare a trasmettere. Allora, grazie ancora una volta a tutte e tutti voi per star qui sintonizzati nel mio canale di Sprecher Sant'Enchan e grazie anche a quanti ascolteranno questa traccia salvata nel mio canale di Youtube Sant'Enchan. Allora, passiamo col tema del giorno. In questi giorni mi sono stupefatto come ancora i giornalisti non si siano stancati di riproporre lo stesso tema. Infatti ho trovato che in internet ne hanno parlato nel 2018, ne hanno parlato nel 2017, ne hanno parlato nel 2015 e potrei continuare avanti fino a tornare indietro, forse nel Medioevo. Infatti, stiamo parlando che più di 600 persone hanno fatto un concilio, lo fanno ogni anno, un seminario, per dibattere sul tema del sacramento, non so, del santo sigillo, che sarebbe il sacramento della confessione, che non è solo un problema che riguarda il clero cattolico, sacerdoti, preti, monaci, eccetera, ma riguarda tutti i cristiani, anche molte chiese riformate, protestanti, pentecostali, il segreto della confessione, il segreto confessionale, che i religiosi condividono con gli avvocati. Infatti si dovrebbe anche parlare della validità del segreto professionale degli avvocati, perché non sempre può rimanere tale. Se uno ha un avvocato, gli dice che in realtà aveva messo più bombe di quelle che sono esplose e che staranno per esplodere, l'avvocato lo deve rivelare o per salvare il suo cliente può omettere questi dettagli, così magari durante il processo lo liberano, lo scagionano, perché le bombe esplose non hanno causato vittime, e poi quando lui scappa ci sono i morti. Ma il tema che ci preoccupa e che ci occupa adesso è quando, per ragioni di sicurezza pubblica, il segreto confessionale, il segreto confessionale, ripeto, il sacro sigillo o qualcosa del genere, lo devono sciogliere i preti, perché, per esempio, esiste l'eventualità, ed è esistita nel passato, che molti preti pedofili si andavano a confessare a altri preti. E il problema non è solo quello, ma perché la verità è che possono reincidere nel delitto, ricadere nel delitto, e quindi rivelare queste confessioni permetterebbe di detenere dei criminali. Oppure loro consumano del materiale pedopornografico, che scaricano da internet, una volta hanno arrestato un sacerdote, aveva la laptop piena zeppa di terabyte di video e di foto. Se fosse riuscito a ritornare nella canonica, non l'avrebbero potuto arrestare, e non avrebbero potuto fare una ricerca del materiale, come dire. Ma una perquisizione. Ma siccome lo hanno beccato in strada, non so se è nella sua macchina o a piedi, perché c'è questa roba qua. I religiosi, soprattutto cattolici, godono, come dire, di immunità, come se fossero dei diplomatici, dei politici. Non li possono arrestare, non possono fare perquisizioni nelle chiese. In modo particolare, i preti cattolici, i religiosi cattolici. Per quello, in Nord America soprattutto, ma anche in Europa, gli scandali dei preti cattolici sono insostenibili. Perché altre religioni, se i cristiani, che commettono gli stessi crimini, sono arrestati come dei cittadini qualunque e le loro chiese o luoghi di culto sono perquisiti senza nessun problema. Anche a sorpresa. Ma come puoi perquisire una chiesa cattolica senza il mandato? E una volta che si concerta l'orario e il luogo da perquisire, c'è poco da trovare, perché fanno sparire ogni prova. E non trovi più niente, perché se tu a chi devi perquisire gli dici vendremo in tale ora, tale giorno, tale data, loro sanno cosa nascondere magari. Quindi non fanno trovare più nulla. Capito? Quanta gente si arresterebbe così? Poi gli dici magari anche cosa stai cercando. Invece in Nord America sono riusciti a fare perquisizioni, perquisizioni nelle chiese quando veramente c'è ragione di farle e a trovare tutto il materiale incriminante e a arrestare i colpevoli, a processarli, a condannarli e a carcerarli. Ma, per quanto riguarda il segreto della confessione, del santo sigillo, ancora non sono riusciti a fare nulla. Io mi chiedo, ma è giusto? Certo, non si deve abusare. Io capisco che per quanto concerne cose personali, private, è anche giusto conservare la riservatezza, la privacy. Nessuno vuole sapere di cosa un individuo si è pentito, perché, come, cosa ha fatto nel passato, se lo continua a fare. Anzi, a volte credo che la confessione serva solo a manipolare le coscienze e a fargli cambiare condotta, incluso quando quello che fanno le persone non ha nulla di male. Ma quando un criminale va a confessare non un peccato, ma un delitto, e addirittura c'è il pericolo della reiterazione, oppure quando un prete scarica materiale pedopornografico da internet e sai che c'è qualcuno che lo produce perché lui lo compri con i soldi delle donazioni, allora non puoi mantenere il sacro sigillo o il sigillo confessionale, la santa confessione, il sacramento del confessionale, queste cose qua. Perché lì puoi frenare un delinquente o vari, un'organizzazione delittiva dal commettere crimini. Quindi non c'è nessuna giustificazione. È come se a confessarsi da un prete andasse un terrorista che andrebbe a dire eh no ma ho messo una trentina di bombe e mi pento. Bene, gli dice il prete, io ti assolvo, ergo ego absolvo tu o qualcosa del genere. però adesso lo dico alla polizia dovrebbe dire non che lo tengo segreto. Lo stesso se un paziente va da uno psicologo a dire ogni tanto degli impulsi di accortellare qualcuno. vabbè ti devi controllare ti devi moderare ma se quella persona gli confida di aver già ferito sua moglie e aver già intentato fare un femminicidio allora lo psicologo o lo psichiatra devono subito andare dalla polizia a manifestare quanto gli ha detto in privato coperto dal segreto professionale il cliente perché si devono premeditare le violenze di genere e le violenze in generale è come se un mafioso andasse dall'avvocato a dire oh dottore ce lo sa che metteranno una bomba in autostrada di nuovo forte farà boom farà volare tutto in aria capito minchia e l'avvocato che sa il luogo l'ora il giorno piripì piripì che non dice niente no certo perché glielo dice il cliente mezze magari lo riconoscono non colpevole di ciò che lo si imputava e l'avvocato non dice no ma guardate il mio cliente ha detto che non so lui ha partecipato all'installazione di materiale dinamitardo e allora le cose cambiano deve parlare capito? quindi avvocati psicologi psichiatri preti religiosi va bene possono avere i segreti professionali o di confessione per salvaguardare la privacy delle persone che si confessano ma non può essere e non deve essere che dietro l'amparo del segreto professionale o di confessione si resti omertosi perché finché si tratta di salvaguardare la privacy della persona va bene ma quando già quelle confessioni o quei segreti professionali minacciano l'incolumità della comunità di tutti noi da attacchi violenze frodi omicidi rapine stupri incendi eccetera allora no non c'è nessun segreto che tenga né professionale né confessionale non non si può pensare che il Papa Papa Francesco che voleva una chiesa povera per i poveri abbia donato soltanto 50.000 dollari quando la chiesa ha 10 miliardi di euro in oro 10 miliardi di euro in azioni in Wall Street 10 o 100 miliardi in proprietà immobiliari in tutto il mondo 10 miliardi di euro in aziende in tutto il mondo addirittura si è stata coinvolta l'OIOR è stato coinvolto perché ha invertito in società che producono pornografia compravendita di armi eccetera eccetera anche cose peggiori che è meglio non menzionare e poi Bergoglio Papa Francesco vuole una chiesa trasparente eppure ancora adesso non si sa quali sono i loschi traffici nell'OIOR non si è fatto nulla per procedere contro la violenza dei preti pedofili e soprattutto non si vuole togliere questo oscuro segreto confessionale che come i segreti professionali dovrebbe essere relativamente trasparente cioè se si tratta di salvaguardare soltanto la privacy delle persone va bene ma già quando la privacy delle persone compromete la sicurezza di tutti quanti gli altri per esempio un terrorismo a portata internazionale con dell'Antraz o una bomba atomica e beh chi si va a confessare dicendo di aver usato Antraz o nucleare per fare un attentato insomma non può mantenere il segreto professionale pensa se è pazzesco allora vi ringrazio di avermi seguito questo programma lo troverete anche nel mio canale di youtube santenchan arrivederci grazie a tutte e tutti e questo è un altro formato che io sto sperimentando nel mio canale ciao ciao ciao